Padre Pio, storia di una vita, nuovo appuntamento di approfondimento della storia e della vita di Padre Pio insieme al nostro direttore Stefano Campanella, ben trovato Stefano. Ben trovato Francesco e ben trovato a tutti coloro che ci seguono. Ebbene, quest'oggi Stefano vogliamo un po' tornare indietro negli anni, tornare a quel periodo su cui poco si è scritto, poco si sa. Tra l'altro ci sono stati determinati anni che il giovane frate, sacerdote, Padre Pio da Pietrelcina ha trascorso nella sua Pietrelcina. Ecco, vogliamo tornare a quegli anni proprio perché ci sono state delle esperienze forti che ha fatto Padre Pio, ma soprattutto in corrispondenza alla sua malattia misteriosa. Sì, Padre Pio, lo abbiamo detto nelle scorse puntate, costretto a rimanere a Pietrelcina anche dopo l'ordinazione sacerdotale. Da un lato ha avuto delle esperienze esaltanti di visioni, quindi quello che praticamente è successo prima della sua ordinazione sacerdotale è continuato anche dopo, nel positivo e nel negativo, perché insieme alle esperienze di apparizioni celestiali ha avuto anche esperienze di vessazioni diaboliche, di vere e proprie lotte contro il demonio anche da sacerdote nel periodo di permanenza a Pietrelcina. Ha avuto anche, diciamo, un periodo di crisi interiore profonda legata al fatto che Dio periodicamente si nascondeva, quindi in Padre Pio rimaneva il senso dell'aridità, della desolazione, questo veniva aggravato anche dal martirio degli scrupoli. Ma il problema principale di questa permanenza a Pietrelcina da sacerdote era il non poter esercitare pienamente il suo ministero sacerdotale. Già per Padre Pio era un peso sapere di essere in una situazione irregolare, sapere di essere frate Cappuccino a tutti gli effetti, di sacerdote Cappuccino, sapere di indossare l'abito di San Francesco, ma al tempo stesso il constatare di non poter vivere la vita del frate minore Cappuccino, di non poter stare in convento, di non poter partecipare a tutti quei momenti di vita comune, fraterna, che gli altri suoi confratelli vivevano in convento, ma a questo si aggiungeva l'impossibilità ad esercitare pienamente il suo ministero sacerdotale. E questo essenzialmente per un divieto del ministro provinciale. Perché? Padre Pio con l'ordinazione sacerdotale automaticamente era abilitato alle confessioni. Ma essendo un religioso, per poter esercitare questo ministero, aveva necessità del permesso, dell'autorizzazione del suo ministro provinciale. E Padre Benedetto non gliel'aveva concesso. Più volte Padre Pio aveva chiesto inutilmente a Padre Benedetto di concedergli questo ministero e ogni volta Padre Benedetto cercava di svincolarsi dal dargli una risposta. Finché nel 1911 Padre Pio lo mette quasi alle strette, scrivendogli la necessità di poter aiutare, di dover aiutare il parroco, soprattutto nel periodo del precetto pasquale. Allora Padre Pio chiede se almeno può confessare solo gli uomini per il periodo del precetto pasquale del 1911. Quindi Padre Pio è già sacerdote da quasi un anno. E aggiunge, guardi che il parroco, l'arciprete, Don Salvatore Pannullo, ha già avvisato in chiesa che ci sarò io ad aiutare nelle confessioni per il precetto, ritenendo che il permesso sia quasi scontato. Invece anche questa volta, nonostante si tratti di un permesso temporaneo, solo per gli uomini, è per dare una mano all'arciprete durante il periodo del precetto pasquale e nonostante l'arciprete abbia già, sbilanciandosi, avvisato il popolo di Pietrelcina, Padre Benedetto continua a dire di no. E motiva questa volta il no, spiegando che da un lato ha paura che il Ministero delle Confessioni possa nuocergli alla salute, sia sotto il profilo fisico, sia sotto il profilo morale. Sotto il profilo fisico perché stare in confessionale per tanto tempo in una stessa posizione per un fisico malato, in una situazione di ridotta presenza di aria, perché mentre oggi ci si può confessare anche vis-à-vis all'epoca, il confessore stava chiuso nel confessionale, in quell'ambiente piuttosto ristretto, con la tendina davanti. E dobbiamo ricordare che le malattie di Padre Pio, o la malattia con vari sintomi di Padre Pio, aveva come perno essenziale questa difficoltà a respirare, complicata da tosse, complicata da febbre molto alta. Quindi Padre Benedetto temeva da un lato che la permanenza per lungo tempo in confessionale potesse dare al suo discepolo qualche problema di salute fisica, ma poi temeva anche che ci potesse essere anche qualche contraccolpo sulla sua salute psicologica, perché essere a contatto con i peccati equivale ad essere a contatto con tante miserie umane, non soltanto con l'atto materiale non ordinato secondo il Vangelo, ma anche a tutta una serie di situazioni che magari sono il presupposto o la conseguenza di quell'atto. E Padre Pio, che già di per sé aveva sofferto il cosiddetto martirio degli scrupoli, e che aveva anche una coscienza sensibilissima, poteva, questo era almeno il pensiero di Padre Benedetto, non essere in grado di reggere il peso psicologico dei peccati altrui. Infine c'era un terzo motivo che Padre Benedetto spiega. Non dava il permesso di confessare perché non era sufficientemente sicuro della preparazione in teologia morale di Padre Pio. E quindi dobbiamo fare un piccolo passo indietro e ricordare che Padre Pio fin dagli anni, dall'inizio della teologia, almeno purtroppo non ci sono date certe, ma certamente all'inizio della teologia già accusava problemi di salute legati a tosse, dolori forti al petto, emottisi, cioè emissione di sangue attraverso l'espettorato, febbre molto alte, i dolori al petto erano così forti che Padre Pio scrive in una lettera che sembrava quasi che mi si spezzasse in due il petto, sudorazioni e anche vomito. Quindi tutta una serie di sintomatologie dinanzi alle quali i medici che di volta in volta, a seconda del convento in cui Padre Pio era presente per ragioni di studio, venivano chiamati, non sapevano far altro che consigliare come rimedio il mandarlo a respirare un po' di aria natia nel paese natio. Poiché lo stato di salute rendeva frequenti queste necessità di andare a respirare l'aria natia e la permanenza pietrelcina si prolungava anche per diversi mesi. Tutto ciò ha impedito a questo giovane frate in cammino verso il sacerdozio di svolgere un adeguato corso di studi che lo rendesse pienamente abile al Ministero. Certo, lui aveva, sul suggerimento sia di Padre Benedetto che di Padre Agostino, tentato di ovviare a questo problema studiando a casa sua, facendosi seguire per la preparazione dal suo confessore di pietrelcina, Don Giuseppe Maria Orlando, però chiaramente è diversa la preparazione di uno che ha seguito un regolare corso di studi, che ha seguito regolarmente le lezioni, che di volta in volta è stato interrogato, quindi gli insegnanti hanno potuto verificare la preparazione. E diverso è lo studio dell'autodidatta che, certo, con l'aiuto di un maestro, un sacerdote come Don Giuseppe Maria Orlando, si preparava un po' alla meglio e andava a sostenere gli esami. Ecco perché Padre Benedetto, persona di grande rigore morale, temeva che questo corso di studi fatto in maniera un po' rabberciata, potesse impedire a Padre Pio di essere un buon confessore. E allora continua a dire il suo no. E tra l'altro Padre Benedetto sperava che questo problema della permanenza pietrelcina potesse risolversi in tempi rapidi. Anche perché il no di Padre Benedetto alle confessioni non era secco, diciamo, senza possibilità di appello. Padre Benedetto diceva ti darò il permesso di confessare appena sarò certo della tua scienza nella teologia morale. Ma per avere questa certezza era necessario che Padre Pio vivesse a stretto contatto o con lo stesso Padre Benedetto o con qualcuno dei confratelli che fosse un po' più esperto di questa materia e che potesse magari seguirlo e valutarne la preparazione. Stando a Pietrelcina le cose erano molto complicate, cioè non si poteva a distanza avere questa certezza. E allora periodicamente Padre Benedetto tenta di chiedere a Padre Pio quando potrà rivederlo in convento. E sempre in un primo tempo Padre Benedetto, diciamo, pur chiedendo quando rientrerà in convento, si mostrava nei confronti di Padre Pio abbastanza tollerante perché era convinto che questa malattia che lo teneva lontano dalle mura claustrali era in realtà una speciale permissione di Dio. Era voluta da Dio, era una prova che veniva dall'alto. Però era una situazione che faceva soffrire lo stesso Padre Pio da un lato, Padre Benedetto dall'altro, ma che creava anche un po' di scompiglio all'interno della provincia religiosa perché non tutti erano disposti a credere che Padre Pio stesse così male e che la permanenza fuori dal convento fosse motivata dalla seria preoccupazione di un esito fatale di quella malattia. E quindi cominciavano già a circolare voci non benevole nei confronti di Padre Pio. Tra l'altro tanti sono stati gli anni in cui Padre Pio è stato a casa e... Prima del sacerdozio e anche dopo. Rischiando anche. Rischiando anche e si arriverà e lo diremo come evoluzione anche di questo racconto, si arriverà al momento in cui si dovrà prendere una decisione se exclaustrare Padre Pio cioè diciamo metterlo fuori dall'ordine e quindi Padre Pio da Pietrelcina sarebbe diventato Don Francesco Forgione o se addirittura ridurlo allo stato laicale perché era una situazione molto molto complessa da gestire e Padre Benedetto a un certo punto scrive una lettera abbastanza dura a Padre Pio il 5 settembre del 1911 Padre Benedetto scrive in questi termini faccio una piccola premessa prima di questa lettera di Padre Benedetto gli aveva scritto Padre Agostino col quale c'era una maggiore confidenza è vero che Padre Benedetto era la guida spirituale il direttore spirituale di Padre Pio però con Padre Agostino nonostante fosse stato l'insegnante di Padre Pio c'era un clima più fraterno anche per un fatto di età erano più vicini di età Padre Pio e Padre Agostino e quindi con maggiore confidenza Padre Agostino gli potè chiedere non con l'autorità ma proprio in amicizia ma perché il Signore vuole che tu rimani fuori dal convento cioè voleva Padre Agostino che Padre Pio chiedesse a Gesù visto che aveva questo rapporto privilegiato il perché di questa prova che stava mettendo in imbarazzo tutti e Padre Pio risponde Padre non posso dire la ragione per cui il Signore mi ha voluto a Pietrelcina mancherei di carità quindi Padre Pio sapeva il perché ma non poteva dirlo perché riteneva in questo modo di mancare di carità e quindi di fronte a questo mistero che rimaneva tale Padre Benedetto il 5 settembre del 1911 scrisse quando ti rivedrò in convento se la dimora a casa non ti guarisce ti richiamerò all'ombra di San Francesco anche se il Signore ti vorrà chiamare alla gloria è meglio che tu muoia nel convento ove egli ti chiamò sono normali preoccupazioni di un ministro provinciale il provinciale ormai vede che Padre Pio sta a Pietrelcina e non guarisce allora dice se tu non guarisci là e non guarisci in convento tanto vale che te ne torni in convento se devi morire è meglio che tu muori in convento anziché morire fuori dal chiostro Padre Pio gli risponde si figuri poi se è il mio desiderio di ritornare in convento il maggiore dei sacrifici che ho fatto al Signore è stato appunto di non aver potuto vivere in convento però non credo mai che ella vorrà assolutamente che io debba proprio morire in casa è vero che ho sofferto e sto soffrendo ma non mi sono mai reso impotente in adempire al mio ufficio il che non è stato mai possibile in convento se si trattasse di soffrire solo benissimo ma l'essere di peso e di fastidio agli altri senza altro risultato se non quello della morte non saprei che rispondere del resto parmi che anche io ho tutto il dovere e il diritto di non privarmi direttamente della vita a 24 anni il Signore pare che così vuole consideri che sono più morto che vivo e poi faccio come crede che sono disposto a fare qualunque sacrificio se trattasi di obbedienza allora qui vediamo che Padre Pio partiamo dalla fine si dice pronto a fare l'obbedienza però chiaramente l'obbedienza non esime dall'esprimere il proprio modo di vedere la propria opinione soprattutto in una questione nella quale nessuno poteva sapere meglio di Padre Pio come si sentisse e allora Padre Pio dice è vero che io sto male qui e sto male in convento però qui sto male di meno tanto che qui posso badare da solo a me stesso cioè non ho bisogno di altri che mi accudiscono mentre in convento Padre Pio stava costantemente a letto era incapace persino di alzarsi e poi dice qui nella peggiore delle ipotesi c'è mia madre che mi dà una mano in convento io sarei di peso a tutti i confratelli per cui non solo non eserciterei io il ministero cosa che a Pietrelcina bene o male Padre Pio riusciva a fare ma impedirei anche agli altri di esercitarlo perché se devono pensare ad accudire sto povero malato qual era lui chiaramente quello era tutto tempo sottratto alle confessioni alle celebrazioni a dare una parola di conforto a quelli che facevano parte del popolo santo di Dio ricompreso nel convento di competenza ecco perché Padre Pio insiste e insiste non a titolo personale ma insiste a nome di Gesù perché dice il Signore pare che così vuole nella necessità di continuare a rimanere a casa perché questo lo vede il danno minore però ecco alla fine come ho già detto prima si dichiara disposto ad obbedire quest'ultima risposta spiazza completamente il provinciale perché da un lato lo mette con le spalle al muro dicendo io ho il diritto di non primarmi della vita a soli 24 anni sono pronto ad obbedire però leggendo tra le righe Padre Pio è come se dicesse io ti ho detto come stanno le cose in convento rischio di morire a casa sto meglio in convento sarei di peso ai confratelli a casa no in convento non potrei svolgere il ministero a casa qualcosina faccio in convento appunto il problema principale è che la malattia sia grave rischio di morire a casa no io ti ho detto tutto questo adesso decidi tu io sono pronto a fare l'obbedienza quindi veramente Padre Pio ha rimesso tutto il peso della responsabilità sulle spalle del ministro provinciale di Padre Benedetto che a questo punto sapendo che si tratta di una situazione contro tutte le regole sapendo che è una situazione che si trascina anche da parecchio tempo a questo punto non può far altro che coprirsi le spalle e quindi cercare di diluire la sua responsabilità mettendo al corrente di tutta la vicenda la massima autorità dell'ordine cioè il ministro generale all'epoca padre pacifico da Seggiano un frate che era anche predicatore apostolico e che terminato il mandato di ministro generale dell'ordine divenne anche vescovo ma non riuscì a svolgere il suo ministero perché morì dopo l'ordinazione episcopale e prima di prendere possesso della sua diocesi non conosciamo la risposta di padre pacifico a padre benedetto però deve essere stata diciamo orientata verso il rientro di padre pio in convento perché dopo dopo questa lettera di cui abbiamo conoscenza di padre benedetto a padre pacifico padre benedetto torna di nuovo a a scrivere a padre pio ad insistere perché egli lasci Pietrelcina e torni in convento e lo fa questa volta però con parole un po' meno dure con parole paterne scrivendo la tua permanenza in famiglia mi addolora assai vorrei non solo vederti in qualche nostro convento ma anche a fianco a me ed apprestarti da me stesso le cure necessarie perché sai che ti voglio bene qual figlio credo poi che il tuo dimorare fuori del chiostro non abbia più scopo perché si vede che anche costano migliori se il tuo male è un volere espresso di Dio e questo è il ragionamento nuovo su cui basa la sua insistenza a padre benedetto se il tuo male è un volere espresso di Dio e non un fatto naturale è meglio che ritorni all'ombra della santa religione l'area nativa non può sanare una creatura visitata dall'altissimo e la stessa creatura non può temere di morire solo perché si riduce nel chiostro o a casa o in religione la tua salute sarà sempre quella che Dio vorrà prima di fare questa lunga esperienza sul conto della tua infermità avrei avuto scrupoli di farti tornare tra noi ma adesso che ho visto andare le cose per il medesimo verso anche restando a respirare l'aria del paese natio mi fa scrupolo di non insistere al tuo ritorno questo mio pensiero è anche quello del reverendo padre Giustino e del padre Agostino che trovassi qua per gli esami ed anche quello del reverendissimo padre generale al quale ho scritto in proposito quindi da qua capiamo che il ministro generale padre Pacifica abbia detto insisti perché in effetti se lui sta male fuori sta male dentro è bene che rientri dentro non violando tutte le insomma tutte le le costituzioni dei cappuccini alla regola di San Francesco e non sappiamo non abbiamo avuto una risposta non si è conservata la lettera di risposta di padre Pio a padre Benedetto ma la deduciamo questa risposta indirettamente da un'altra lettera che scrive padre Benedetto a padre Pio un'altra lettera nella quale si fa capire come padre Pio ancora una volta abbia opposto un po' di resistenza perché padre Benedetto scrive quando uno vi scrive da superiore direttore spirituale voi dovete con riverenza e intenzione e interiore sottomissione ascoltare quel che vi dice e non già ragionarvi sopra con una specie di risentimento come superiore direttore vi ho dichiarato che il vostro male non ha bisogno di medici quindi evidentemente padre Pio aveva anche detto fatemi visitare da un medico perché forse aveva avuto l'impressione di non essere creduto quindi come superiore direttore vi ho dichiarato che il vostro male non ha bisogno di medici essendo una speciale permissione di Dio e per questo mi sono curato di farvi visitare non mi sono curato di farvi visitare da alcuno specialista trattandosi di una particolare croce soprannaturale io ho stimato sempre inutile per voi farmaci e l'arenatia e se il Signore ha permesso che l'aria di Costavia avesse in qualche modo giovato è stato per dare a voi a me una mortificazione col farvi stare fuori dal convento ma voi non volete umilmente sottomettermi a questi miei giudizi e fate male spero peraltro che sia l'ultima volta che voi non vi assoggettate alle mie dichiarazioni altrimenti non vi scriverò più quindi ci va giù duro pesante padre Benedetto però evidentemente di lì a poco si pente quasi delle parole scritte a padre Pio perché mentre padre Pio proprio viene colpito al cuore dalla durezza di questa lettera e chiede in una lettera successiva di risposta questa ci è pervenuta chiede perdone in ginocchio a padre Benedetto si ha dato l'impressione di non voler ubbidire di voler contestare i suoi ordini scrive Mene Pento su questo riguardo come può pentirsi un'anima innamorata di Dio dei propri peccati preghiamo insieme il Signore di fulminarmi prima di ricadere nuovamente in simili accessi quindi padre Pio chiede perdono ma padre Benedetto si era gente in rito ancora prima che gli giungesse la richiesta di perdono di padre Pio forse aveva capito di aver esagerato un po' con quella lettera e già si era organizzato per accontentare padre Pio e farlo visitare effettivamente da un medico e di questa di questa visita aveva incaricato il guardiano del convento di Morcone padre Ignazio da Ielsi chiedendo a lui di accompagnare padre Pio a Napoli per una visita medica poi in un secondo momento non sappiamo per quale ragione padre Benedetto decide di accompagnare egli stesso padre Pio a Napoli per sentire personalmente qual era il parere dei medici con la speranza probabilmente di o ricevere una sorta di conforto a quello che sia padre Benedetto sia il generale pensavano e cioè che padre Pio può rientrare in convento senza il timore e il rischio di morire oppure di sentirsi dire no padre Pio questo frate non può entrare in convento e quindi con questa attestazione medica mettere a tacere sia tutti i malpensanti e trovare le scamotage per rendere compatibile questa situazione di malattia con le costituzioni dell'ordine e quindi probabilmente padre Benedetto avrebbe dovuto mandare il referto medico al ministro generale in realtà il referto fu positivo nel senso che colui che fu interpellato sostenne che padre Pio poteva rientrare tranquillamente in convento senza la speranza di peggiorare il designato fu colui che per l'epoca era ritenuto un luminare il professor Antonio Cardarelli che era docente di patologia medica all'Università di Napoli era medico di fiducia di Garibaldi di Vittorio Emanuele II di Umberto II ma soprattutto era un famosissimo e stimatissimo a livello nazionale non solo nella sua Napoli per le sue capacità diagnostiche cioè le scarne notizie biografiche che abbiamo di questo medico originario del Molissima che ha fatto la sua fortuna a Napoli come docente all'Università di Medicina e come clinico l'abilità di questo medico era proverbiale nelle poche notizie biografiche che abbiamo sappiamo che lui a volte con uno sguardo a volte con una visita molto fugace riusciva a diagnosticare malattie che altri non avevano individuato altri colleghi suoi non avevano individuato quando Cardarelli visitò Padre Pio era già molto in là negli anni ne aveva 80 Cardarelli ma dobbiamo ricordare che Cardarelli è morto a 92 anni essendo ancora sulla breccia cioè a 92 anni lui visitava ancora e quindi nonostante i suoi 80 anni era lucido era ancora un medico dall'occhio clinico certamente molto capace e Cardarelli disse che non era affatto necessario per Padre Pio per guarire e respirare l'aria natia dinanzi a questa valutazione di alto livello Padre Benedetto decide a quel punto di accompagnare Padre Pio a Venafro e qui devo aprire una parentesi perché ci sono due scuole di pensiero storiche in proposito perché secondo un testo scritto da Padre Gerardo di Flumeri su Padre Pio a Venafro Cardarelli avrebbe detto questo giovane frate ha poche ore di vita portato a morire nel più vicino convento secondo invece una ricostruzione di Padre Antonio Gambale le cose non sono andate così e quest'ultima ricostruzione è più credibile per due ragioni la prima è legata al fatto che Padre Pio scrivendo una lettera al Ministro Generale no Padre Pio Padre Benedetto scrivendo una lettera al Ministro Generale spiega che ha portato Padre Pio a Venafro perché il Dottor Cardarelli aveva detto che poteva rimanere in convento e che non avrebbe avuto nessun pregiudizio dall'allontanarsi dall'Arenatia per cui è Padre Benedetto che dice che riferisce il giudizio di Cardarelli che è diverso da quello scritto da Padre Gerardo poi c'è un altro aspetto se effettivamente Cardarelli avesse detto portato a morire nel più vicino convento certamente Venafro non era il più vicino rispetto a Napoli ce n'erano altri molto più vicini quindi è verosimile che il il parere di Cardarelli sia stato quello che ritroviamo nella lettera di Padre Benedetto al Ministro Generale quindi Padre Benedetto confortato dal parere di Cardarelli abbia voluto portare Padre Pio nel convento nel quale avrebbe proseguito i suoi studi perché nel convento di Venafro in quel momento si trovavano i compagni di studio di Padre Pio tutti ordinati sacerdoti come lui che stavano studiando l'eloquenza che avrebbe consentito loro quella capacità di essere oltre che sacerdoti anche dei bravi predicatori quindi nell'idea di Padre Benedetto a Venafro Padre Pio doveva continuare a seguire il suo regolare corso di studi se non che purtroppo in convento a Venafro dopo i primi giorni in cui Padre Pio stette meglio fu molto dinamico addirittura andava a predicare in una parrocchia del paese ricadde in uno stato di salute pietoso per il quale in 21 giorni non mangiò assolutamente nulla e l'unico cibo tra virgolette che non rimetteva era la Sacra Eucaristia che dovevano portarli in camera perché non riusciva neanche a stare in piedi per poter celebrare bene Stefano noi ci fermiamo qui avremo modo di continuare da questo episodio da questa quaresima di Padre Pio di Venafro che ci riporterà poi di nuovo a Pietrelcina con questa misteriosa malattia poi scopriremo come il giorno dopo subito Padre Pio stette meglio ma questo ce lo racconterai anche la prossima volta con Padre Pio storia di una vita grazie ancora ci vediamo fra sette giorni grazie a tutti